Musica Whisky, perché whisky? Perché il tappo, il tappo della whisky, la possiamo chiamare sistema. Ormai la luce l'abbiamo ingabbiata, è lì protetta nel suo dissipatore e possiamo attaccarci il vetro che vogliamo. In questo caso era un'immagine un po' popolare, la fiaschetta del whisky, e era soltanto un pretesto come un altro di raccogliere la luce. La satinatura la disegna in maniera molto nitida e netta. Whisky